Per favore, mi date un passaggio con la macchina. Un banale incidente mi ha fermato qui con la mia auto. Io devo essere assolutamente a Roma, entro domani, perché devo parlare a tribuna politica. Io sono un candidato delle prossime elezioni. Ma da che partito sei? Il Moipi... Per il Partito Comunista Italiano. Perché ci frega? Siamo fascisti, siamo. Camerata! Fermo, camerata! Sono anch'io, camerata! Ho detto una bugia! Maledizione!